Una vetrina colma di messaggi sociali e ambientali che spaziona dall'omofobia a razzismo fino alla questione della plastica nel pianeta. I vari slogan che i passanti leggono sui vetri della libreria per ragazzi Momo in via Mazzina Ravenna rientrano nel progetto Colorali Piazze. Il progetto è stato esposto davanti alla libreria il 19 luglio. Com'è nata questa idea? L'idea è nata grazie a un progetto di Manuela Mapelli, che è un'illustratrice di Cesena, che ha creato questi poster illustrati. Il suo progetto si chiama Colorali Piazze e ha creato 12 poster che affrontano temi dell'attualità. Per cui noi, avendo visto il suo progetto, abbiamo deciso di aderire esponendo i suoi manifesti. Ne abbiamo scelti 8 di questi 12, esponendoli qui alla libreria, sulla vetrina della libreria Momo, scurandola completamente. Di solito la vetrina serve per esporre i nostri libri, le nostre scelte editoriali e invece abbiamo voluto dare questo messaggio per far riflettere un po' sulle tematiche dell'attualità. Ci sono anche altre città, altri esercizi che hanno aderito a questo progetto sul territorio o in Italia? No, non ancora. Diciamo che noi siamo stati un po' i primi a avere questa idea di esporli in vetrina, però in questi giorni abbiamo avuto diverse richieste per esporre anche loro questi manifesti. Sono ovviamente tematiche attuali che interessano sia adulti che bambini. La motivazione è quella di far riflettere chi passa davanti alla vetrina su queste tematiche, sia tematiche ambientali che tematiche sociali, per portare a una sensibilità sull'inclusione, per una società più inclusiva e più rispettosa dell'ambiente. La nostra idea è quella che passando davanti alla vetrina i bambini, perché essendo appunto posteri illustrati e con degli slogan molto semplici, possono raggiungere tutte le fasce d'età. Noi lavoriamo con le illustrazioni e con la parola, e quindi quello che speriamo è che appunto chi passa davanti alla vetrina possa, i bambini per esempio, chiedere, fare domande e appunto riflettere su queste tematiche.